Bella a tutti raga e siete sempre insieme sul canale di PokéShiny Stiamo qui ancora oggi per un'altra opening di Loading Pasqua numero 11 E quest'oggi vi porto il terzo ed ultimo uovo dei Pokémon con il terzo ed ultimo artwork Devo dire la verità che in ogni artwork ho trovato un regalo diverso Non so se è un caso o meno, vediamo se col terzo si conferma di nuovo questa cosa Ok, allora fatemi vedere un attimo Questo lo mettiamo di qui Ok, partiamo sempre con i due pacchetti di Sola e Luna con Primarina Eccoci qui, vediamo Siamo fortunati Golbat Dragonair Polywheel Raymer di Alola Togedemaru Staffulmareni Depider Recruta del team Skull Reverse Ariyama Raro Il primo è innocuo Vediamo il mio Solgaleo Se vi da qualche soddisfazione Energia in colore doppia Dragonair Liam Liam non si trova spesso, è come carta allenatore Lillipop Wingull Snabull Carvania Zbat Iwangus Earth E Rimbombi Rimbombito Rimbombi Olo Va bene, dai Una Olo ci piace più che una rara normale, no? Sempre meglio Allora, adesso passiamo all'apertura dell'uovo dei Pokémon Mi manca solo il portachiave di Pikachu Il portachiave, insomma, della Pokéball C'è anche il portacellulare O comunque il sacchettino di Pikachu, mi hanno detto Io ho trovato quello con le Pokéball L'uovo è sempre lo stesso Il design, insomma, è sempre lo stesso Apriamo Vediamo se trovo qualcosa di ripetuto o meno Il laccetto è andato Ecco qui l'uovo Grazie a tutti